Cipro ha spiccato diversi mandati di arresto nei confronti dell'equipaggio di una navi turca da perforazione petrolifera, ancorata non lontano dalle proprie coste. L'accusa ha verso stato in acque dove solo imbarcazioni cipriote hanno diritto di esplorare il fondale, che è ricco di gas e petrolio. Secondo questa cartina, fornita dal Ministero degli Esteri cipriota, la zona è in rosso e di competenza esclusiva dell'isola. Già lo scorso 10 giugno, rumors su possibili mandati di arresto ciprioti avevano messo in guardia Ancara. I due paesi sono ai ferricorti dal 74, dopo la divisione dell'isola nella parte greca e in quella turca. La scoperta di giocimenti di gas naturale nel fondale marino a largo di Cipro hanno esacerbato ulteriormente i rapporti. Il Ministero degli Esteri, Turca, ha risposto a breve giro di posta, dicendo che se si arrivasse a eseguire gli arresti, seguirà una risposta adeguata. Il Ministro degli Esteri ha definito non vaido comunque qualsiasi accordo che escluda la Turchia, ribadendo che anche i turchi ciprioti hanno diritti sulle risorse dell'isola e di riflesso anche Ancara. Grazie.